Salve, buongiorno a tutti, sono Michele Lombardi, titolare e socio della Nuimpiantistica, un'azienda che si occupa di impianti elettrici, fotovoltaici e impianti tecnologici. Siamo una squadra di circa 10 persone, di cui 5 si occupano della parte amministrativa e della parte di ufficio, dove sicuramente Tueppi riesce a migliorare tantissimo queste risorse che sono in ufficio. Noi ci troviamo a gestire tante pratiche, perché chi conosce un po' il settore del fotovoltaico sa che ci sono tanti leader da rispettare. E veramente posso dire che Tueppi, con la gestione degli incarichi, con il servizio di automazioni, il servizio dell'avanzamento pratiche, è veramente uno strumento eccezionale. Io penso che sul mercato non si trovi niente del genere, perché è veramente uno strumento che è stato pensato proprio nel dettaglio per chi lavora come noi e si trova ogni giorno a dover gestire tantissime cose. Diciamo che da quando c'è Tueppi sicuramente aiutiamo anche di più l'ambiente perché via pezzettini di carte, via scritte, via passaggi di consegne e di cose da fare, si fa tutto nella gestione degli incarichi, che è una cosa comodissima. Quando ho acquistato Tueppi pensavo di acquistare un client di posta e posso dire che Tueppi veramente è anche un client di posta, ma dietro c'è il mondo proprio delle cose che si possono fare e veramente il client di posta diventa la minima parte di questo gestionale. Veramente complimenti a tutte le persone di Tueppi che sono riusciti a creare questa creatura veramente delle potenzialità enormi. Veramente ve lo consiglio. Grazie.